Fabiano Scuffi, 30 anni, abita a Chiavenna. Completati di studi di falegnameria, per dieci anni ha lavorato come artigiano nella Valle del Mera, dove, nello stesso periodo, suonava in una band insieme ad alcuni amici. Il legno e la musica, due passioni che lo hanno poi portato ad una svolta, costruire strumenti di alta qualità. Un po' di coraggio e dalle parole ai fatti non c'è voluto poi molto, così dal febbraio 2014 lavora solo ed esclusivamente per produrre i suoi bassi e le sue chitarre nel piccolo laboratorio di falegnameria allestito nel garage sotto casa. Ho sempre avuto la passione per la chitarra, per la musica, ho sempre suonato e quindi ho voluto mettere insieme le due cose. Ho frequentato dei corsi alla scuola di luteria di Milano e diverse convention con gli utai famosi e poi mi sono messo da solo a fare prove e riprove facendo provare ogni volta le mie modifiche, i miei strumenti a musicisti della zona. La particolarità della chitarra artigianale è che il cliente può scegliere dall'inizio alla fine tutte le personalizzazioni che vuole fare sulla chitarra, può scegliere il legno, può scegliere la forma, il tipo di impianto elettrico, il colore, c'è la possibilità di crearsi la chitarra come preferisce. Solitamente uso per il corpo lontano, mogano e per i top invece uso legni figurati come l'acero marezzato, l'ulivo, la radica di pioppo, mentre i manici solitamente li costruisco di acero e le tastiere di ebano. La richiesta più bizzarra? Mi hanno chiesto doppio manico, 12 corde. Per realizzare una chitarra in legno, dalla progettazione alle finiture finali, ci vogliono 20 giorni di lavoro durante i quali nessun dettaglio è lasciato al caso e tutte le fasi vengono controllate attentamente in modo che il risultato sia impeccabile. Oggi Fabiano costruisce, fa manutenzioni, riparazioni e modifiche di strumenti musicali. Tra i suoi clienti, tanti amici conosciuti durante i concerti in provincia di Sondrio. All'inizio sono rimasti un po' tutti, poi alla fine hanno voluto provare anche loro le mie chitarre e sono stati soddisfatti. Vere e proprie opere d'arte, le chitarre di Fabiano Scuffi sono presenti durante le principali fiere del settore, dove pian piano l'artigiano di Chiavenna si sta facendo un nome perché, ci spiega, in futuro sarebbe bello uscire dai confini provinciali. Mi piacerebbe riuscire a portare in giro, anche fuori dall'Italia, magari i miei strumenti.